Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni ha ragione sui balneari. Il governo sta dicendo delle fesserie, delle bugie. Perché sta raccontando delle bugie? Giorgia Meloni se l'è chiesto. Dice, ma c'è qualcosa che non mi torna. Perché dicono questo quando non è vero? Di che cosa stiamo parlando? Parliamo della direttiva Bolkstein, che assomiglia a Frankenstein, ma è un'altra cosa. Decreto-legge, DDL, concorrenza. Ci sono delle notizie false su questi balneari. Ci sono un sacco di luoghi comuni. Intanto si dice che queste concessioni siano così irrisorie che alla fine, un po' come il catasto, pagano così poco questi del settore balneare. Ma queste imprese, oltre al canone, hanno anche il conto economico della pulizia degli arenili, il servizio dei bagnini, i costi di formazione per il personale, la sicurezza. Devono poi pagare anche l'IVA al 22%, IMU sui manufatti, sebbene si tratti di beni in affetto. Altro tema poi riguarda l'Europa. Torniamo indietro al 2018. Le concessioni balneari sono beni e non servizi, dice un ospite in un convegno organizzato da un'associazione di donne che gestiscono stabilimenti balneari. Le concessioni sono beni e non servizi. E chi lo dice? Dice un signore di 89 anni, è Fitz Bolkestein, proprio l'ex commissario dell'Unione Europea per il mercato interno e padre di quella direttiva che ha messo in moto il bailame della scadenza delle concessioni. Direttiva sulla concorrenza che però si rivolge appunto ai servizi. Ma sono beni e non servizi. Dunque già l'estensione della normativa aveva messo il dito sulla piaga su quello che appare un errato recepimento del provvedimento comunitario nel nostro ordinamento. E poi il collegamento, quello che fa più specie, è il collegamento della riforma delle concessioni balneari alla possibilità di continuare a ricevere i soldi del PNRR. Una linea che Draghi ha rivendicato anche nel Consiglio dei Ministri straordinario convocato per invocare l'accordo. Peccato che però, in realtà, nel nostro piano PNRR la questione delle concessioni balneari non c'è. Non esiste. Esiste solo nella mente di Draghi. Non c'è. Piuttosto si richiama a quelle riguardanti l'energia idroelettrica, le concessioni per l'energia elettrica, le concessioni per il gas naturale, le concessioni per le autostrade. Più semplicemente, come diceva Giorgia Meloni, ho letto le carte, non si parla di concessioni balneari. Non esistono in questo PNRR. Perché Draghi dice che si bloccherebbe l'erogazione dei fondi da parte dell'Europa se non si liberalizza il settore balneari? Perché dice una cosa palesemente falsa? C'è qualcosa che non sappiamo? Lui ha preso dagli altri accordi? Poi rimangono alcuni punti sospesi su questa direttiva. L'articolo 12, per esempio, sancisce l'applicazione laddove l'attività economica contempli l'utilizzo di risorse scarse. Per definirlo ci vorrebbe una mappatura che però, nonostante sia stata anche definita all'interno della legge di bilancio del 2018, non è mai stata svolta. Questi dunque alcuni punti sostanziali in un dossier che ha visto un confronto spesso distorto da tante troppe chiavi di letture ideologiche. In vista della ripresa dell'iter che prevede l'esame del DDL concorrenza in Commissione Industria del Senato, e sui balneari i nodi sono due. Gli indennizi per quegli imprenditori che perderanno la concessione e di fatto l'azienda, e poi la scadenza delle concessioni stesse previste per la fine del 2023. Due nodi cui corrispondono due tipi di timori da parte degli imprenditori. Il primo riguarda la difficoltà di valutare la congruità dell'indennizzo, essendo in ballo anni di sacrifici e investimenti. Lo Stato vi dà 3.000 euro e dice lascio, 3.000 e lascio, dopo che lì dentro c'è il lavoro di una vita. Strutture, infrastrutture, passerelle, sono tanti di quei soldi investiti. Quindi non pensate che l'indennità dello Stato sia un qualcosa che rispecchi la realtà. Sarà una roba da ridere, eh dai. Avete visto l'indennizzo per quella che se n'è andata purtroppo per causa vaccini, gli hanno dato 77.000 euro alla famiglia, allo Stato? Dice ma vale 77.000 euro una vita? E qui cosa volete che possa valere per lo Stato uno stabilimento balneare? Quasi niente. Il secondo punto è il destino a partire dal 2024 per quanti perderanno la concessione, considerando anche le esposizioni bancarie e la difficoltà di riconvertirsi in qualche modo sul mercato e ottenere altro credito. Cioè uno che ha uno stabilimento balneare, cosa volete che vada a fare? L'aila di Carlo del sindacato La Base Balneare lancia il suo allarme su un giornale, Il Tempo, e dice noi facciamo parte di questo paese, non siamo persone di cui liberarsi, perché di questo si tratta. È una vergogna svendere le spiagge alle multinazionali italiane e straniere, noi siamo una grande risorsa da rilanciare per ripartire in questo momento di crisi. L'aila di Carlo dice è una vergogna svendere gli arenili alle multinazionali italiane e straniere con questa crisi. Secondo me avrebbero dovuto magari dire vabbè le concessioni sono poi così basse, aggiorniamo il valore di queste concessioni, piuttosto che togliere le concessioni le aggiorniamo, senza mettere valori spropositati che poi non si possano reggere. Riaggiorniamo questi valori, ma bisogna dare la prelazione a chi c'è già. Non si può mettere sulla strada un imprenditore perché adesso si liberalizza questo, quell'altro, allora si fanno le offerte, chi vince l'offerta. Cioè chi è già titolare di uno stabilimento balneare, titolare nel senso che ha questa concessione. Deve avere la prelazione assoluta, assoluta. Vabbè, comunque è un discorso poi complicato, bisognerebbe sapere nel dettaglio bene le cose che la maggioranza di noi non le conosce, perché di spiaggia conosce solo l'ombrellone, la sdraio, il baretto, ma non sa quasi, non sa nulla di quello che è quel lavoro lì. Grazie a tutti e arrivederci.